Buongiorno a tutti, io sono Ugo Bonelli, collaboro con il Formez nella gestione e nell'organizzazione di questo progetto Informazione e formazione per la transizione digitale per l'attuazione del progetto di Italia Login, che è curato da Agile con il supporto di Formez per tutta una serie di attività che adesso vi andremo a raccontare. Questa mattina avviamo il ciclo di webinar su dati aperti, open data e dati territoriali nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Adesso aspettiamo qualche minuto perché tutti quanti voi possiate accedere nella stanza e poi ci apprestiamo rapidamente a seguire gli interventi. Ricordo che appunto questo webinar di oggi fa parte di un ciclo che si articolerà appunto oggi, il 22 ottobre del 5 novembre, andando ad approfondire le principali novità del catalogo nazionale dei dati aperti, dati.gov.it. Il 22 ottobre parleremo, affronteremo nello specifico le attività necessarie per il monitoraggio ai sensi della direttiva Inspire e quindi andremo a parlare dei dati territoriali nello specifico. E invece il 5 novembre andremo a concludere questo ciclo ciclo di webinar dando una panoramica più generale sulle azioni e sugli obiettivi del tema specifico dati aperti contenuti nel piano triennale ICT 2020-2022. Ricordo un aspetto molto importante, tra l'altro speriamo che nel corso di questo mese venga approvata la nuova direttiva, la nuova direttiva europea sull'utilizzo dell'informazione pubblica e quindi speriamo anche in quella data, il 5 novembre, di avere qualche elemento, vorremmo dare qualche dettaglio specifico sulla nuova direttiva. Ricordo che per coloro che sono dipendenti di amministrazione pubblica, gli attestati di partecipazione saranno disponibili al termine del ciclo di webinar appunto per coloro che hanno partecipato ad almeno due webinar su tre, quindi questo è un elemento molto importante. Parlando del webinar di oggi, vi ho accennato al discorso, al tema, all'analizzare le nuove funzionalità, i nuovi metodi, gli standard per l'esposizione dei dataset in formato aperto da parte delle pubbliche amministrazioni e il collega Francesco Paolicelli ci darà una panoramica degli aspetti più tecnici per effettuare l'harvesting su DaticoVit. Gabriele Ciasullo invece ci presenterà in sede iniziale le novità, le principali funzionalità del nuovo catalogo DaticoVit che ha avuto recentemente qualche delle evoluzioni anche nell'aspetto grafico e di contenuti. e ricordo anche che ovviamente tutto il materiale, le iscrizioni ai successivi webinar e tutte le informazioni sono ovviamente disponibili sul portale eventi PA del Formez, da cui potrete scaricare il materiale e la registrazione video del webinar che sarà pubblicata nel primo pomeriggio insieme alle slide e al materiale dei relatori. Questa è l'agenda che abbiamo predisposto cercando di dargli un taglio molto operativo. Sappiamo appunto che ormai è un tema insomma ormai abbastanza studiato, analizzato e di cui le PA sono a conoscenza ormai nei loro obblighi, nei loro attempimenti, ma vorremmo cercare di dare un taglio più di servizio in qualche modo a questo argomento e quindi abbiamo pensato di dare un taglio molto molto pratico al webinar e in chiusura avremo anche la testimonianza, l'esperienza della provincia autonoma di Trento con Francesca Gleria che ci racconterà appunto le loro attività di federazione con il catalogo nazionale. Abbiamo lasciato 10-15 minuti per le domande finali che immaginiamo potranno essere un numero considerevole data appunto la specificità piuttosto tecnica del webinar e poi alle 11.25 andremo verso le conclusioni del webinar. Io con questo avrei concluso e passerei la parola a Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per che ci dà un po' la panoramica complessiva sulle nuove funzionalità e sulle novità del catalogo datico. Grazie. Grazie Ugo, buongiorno a tutti. Quindi non ripeto le cose che Ugo vi ha già anticipato. L'obiettivo appunto è quello di cercare di dare contributi fattivi pratici a coloro che operano o che potranno operare in questo ambito. Partiamo anche se ormai sono passati un po' di mesi da quando il nuovo datico VIT è stato diciamo in qualche modo ridipinto non solo esteticamente ma anche nelle sue effetti, nelle sue funzionalità. Sono passati un po' di mesi però mi sembrava una buona occasione per accennare brevemente e quindi per introdurre poi la parte successiva di utilizzazione pratica, di suggerimenti, di verifica del perché certe cose accadono all'interno del catalogo e quindi quali sono gli effetti dal momento in cui un'operazione viene effettuata in locale al momento in cui questa viene poi resta disponibile attraverso il catalogo nazionale. Quindi dicevo le novità del catalogo diciamo una carrellata di dove siamo da questo punto di vista. Per poter parlare di questo ho voluto in qualche modo mettere l'accento sul fatto che l'informazione è un momento diciamo come dire è fondamentale mettere appunto a disposizione degli utenti un'informazione che possa aiutare, possa consentire di affacciarsi a fruire e accedere ai dati resi disponibili dalle amministrazioni. Quando parliamo di dati e di servizi chiaramente noi stiamo parlando di qualche cosa che la pubblica amministrazione, per la pubblica amministrazione è un fatto è un fatto diciamo è un atto dovuto, la pubblica amministrazione produce dati e eroga servizi in funzione dei compiti istituzionali che le sono conferiti e quindi diciamo da tutta questa attività si genera un ciclo virtuoso di dati, servizi che in qualche modo con cui noi ci interfacciamo. Ecco che diventa importante un elemento informativo che va al di là del dato e del servizio, il metadato. Già oggi parlare di metadati sembra una qualche cosa di nuovo ma diciamo la concettualità di questo aspetto nasce nella notte dei tempi. In questo strato ho voluto riportare un accenno alla famosa biblioteca di Alessandria laddove già all'epoca appunto si usava questo principio della metadattazione, delle informazioni che vanno al di là del contenuto specifico del dato, si usava questa metodologia per appunto classificare i propri dati all'epoca, le pergamene nella fattispecie della biblioteca di Alessandria. Quindi l'obiettivo principale che si intende raggiungere attraverso i metodati è quello di consentire un accesso alla fruibilità del dato, quindi agevolare la ricerca di qualche cosa che a noi ci interessa. E questa è la funzione di un catalogo. Il catalogo ha semplicemente questa funzione, fare in modo che l'utente possa arrivare in modo più rapido e più facile ad una informazione di proprio interesse. Il modello dell'informazione che l'Italia in qualche modo ha adottato è quello della dislocazione di dati e servizi presso le varie amministrazioni titolari di queste informazioni e attraverso i metadati far confluire, quindi rendere disponibile, favorire la fruibilità e l'accesso a questi dati e servizi attraverso appunto una serie di metadati che confluiscono in un catalogo nazionale. In questo caso anche attraverso eventualmente dei cataloghi locali, evidentemente, come avviene in molti casi e come poi verrà messo in evidenza dall'intervento di Francesca Gleida alla fine, dove ci racconterà l'esperienza di Trento che in effetti svolge un ruolo di sussidiarietà nei confronti di tanti comuni del territorio. Quindi il catalogo nazionale ha una sua fisionomia con una duplice veste dalla parte che deve essere alimentato dalle amministrazioni, dall'altra parte deve offrire un servizio di ricerca. Dal punto di vista normativo la testimonianza è appunto riportata nelle norme di ricevimento della direttiva Public Sector Information laddove ci dice appunto che le amministrazioni devono agevolare la ricerca e quindi dei propri documenti per il riutilizzo e a tal fine viene utilizzato appunto il catalogo nazionale gestito dall'Agenzia Veritaria e Digitale. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il catalogo di dati territoriali, quindi Agit gestisce da una parte il catalogo di dati aperti e dall'altra parte il catalogo di dati territoriali che risponde al dominio geodati.gov.it. Entrambi queste infrastrutture, queste piattaforme sono in qualche modo tarate su un profilo di metadarazione ovvero su un insieme di informazioni che si è deciso essere significativa a tal fine. Dalla parte del catalogo di dati geografici abbiamo un profilo che viene denominato Inspire RNDT dove RNDT è l'estensione del profilo europeo Inspire. Dall'altra parte per il catalogo dati.gov.it, per il portale dati.gov.it, il profilo di metadarazione è il DGATAP-IT dove IT è l'estensione del profilo europeo Data Catalog Application Profile. Quindi utilizziamo questi due standard per portare avanti, diciamo, per raccogliere queste meta informazioni da parte delle amministrazioni che contribuiscono appunto a alimentare e a rendere disponibili i propri dati in una determinata modalità, dalla parte quelli aperti e dall'altra parte quelli territoriali dove abbiamo già avuto modo di vedere in altre circostanze dove sono raccolti non solo dati aperti ma anche dati non aperti, non disponibili con la licenza open. Vado avanti per dare brevemente un accenno al portale dati.gov.it dove un primo nucleo risale al 2011-2012, per questo modo, ed era gestito da Formez Pia, all'epoca poi, negli anni successivi, nel 2015 in particolare, dove ci fu il ricevimento della seconda direttiva sui dati aperti, quella che ha dato una svolta, in tal senso, al paradigma, al teorema dell'open data, e appunto dove è stata prevista quella norma che dava ad Agit poi la gestione di questo catalogo nazionale. Nel 2016 c'è stata la definizione da parte di Agit con la collaborazione di alcune amministrazioni, ci fu la definizione del profilo nazionale di metodatronazione di Cattapit, che ancora oggi naturalmente usiamo. Nel 2017 poi c'è stato un primo restyling del portale, fu lanciato in occasione della prima settimana dell'amministrazione aperta. Sempre in quel periodo c'era un'attenzione particolare ad un progetto in ambito con le regioni per quanto riguarda il famoso 811-822, degli obiettivi tematici che venivano dall'Europa, diciamo, sollecitati ai vari paesi, e in quel contesto fu definito il protocollo per gli open data e il data management, dove poi fu trasfuso nel piano triennale 2017-2019, dove si davano indicazioni dove in qualche modo ci si rendeva conto di quale dovevano essere le azioni delle amministrazioni per favorire appunto l'accesso la fruibilità dei dati. In quell'epoca sempre, diciamo, trovava consolidazione, veniva consolidato in effetti il paniere dinamico dei dataset e dove in qualche modo, sulla base del quale viene calcolato ancora tuttora, perché diciamo la scadenza dovrebbe essere 2023 se ricordo bene, dove viene calcolato il rapporto, un indicatore ben preciso per quanto riguarda l'accordo di partenariato con l'Europa sul tema appunto degli open data. Inoltre, sempre in quel momento, ci fu attraverso questo lancio, attraverso l'attività svolta in quell'epoca, ci fu il salto qualitativo del nostro paese per quanto riguarda la tematica open data all'interno dell'open data maturi di report passando dal ventesimo posto, se non sbaglio, all'ottava, ottava in una posizione, quindi una posizione abbastanza, insomma, più significativa rispetto a quella che erano nell'anno precedente. Poi, diciamo, nel 2018, nel 2019, col piano triennale del 2019-21, fu definita una specifica linea di azione appunto per far evolvere il catalogo nazionale da Ticovit, sulla base di un principio per quello di raccogliere, ovvero la maggior parte, delle sorgenti di informazioni diffuse presso la pubblica amministrazione. Ed ecco che arriviamo appunto al febbraio 2021, alla nuova release del portale da Ticovit, che nasce appunto sulla base di un'infrastruttura, la cosiddetta famosa infrastruttura SIGAN, che consente appunto di essere allineati al profilo di Cattapiti, al profilo nazionale di Cattapiti e consente di raccogliere i metadati dalla maggior parte delle infrastrutture diffuse sul territorio nazionale. Ed ecco che uno dei primi elementi, un elemento molto significativo di novità del nuovo catalogo da Ticovit, del nuovo portale da Ticovit, è proprio quello di aver, diciamo in qualche modo, creato un collegamento con il portale dei dati geografici, con il portale dei dati territoriali attraverso lo standard Geo di Cattapiti. Questo è un argomento di cui ne abbiamo parlato in altre occasioni e probabilmente che ci viene richiesto diciamo abbastanza spesso di ulteriori chiarimenti su questo aspetto, quindi probabilmente sarà oggetto di ulteriore attenzione in futuro. La cosa che qui volevo appunto evidenziare è che è stato raggiunto e stato portato a compimento un processo che in qualche modo garantisce l'interoperabilità tra i due cataloghi e consente di dare attuazione al principio manzoni per quanto riguarda i dati territoriali, i dati geografici aperti, che vengono documentati opportunamente e adeguatamente nel catalogo di dati geografici e vengono resi fruibili anche attraverso il catalogo di Ticovit senza ulteriori interventi da parte dell'amministrazione. Siamo sicuri in questo modo che l'informazione presente in un catalogo è perfettamente identica all'informazione presente nell'altro catalogo in pieno rispetto del principio one zone. Un altro elemento particolare naturalmente insomma è delle novità nel portale Ticovit che chiaramente sono le funzionalità di ricerca laddove questo corrisponde esattamente al principio base, alle funzionalità di base di un catalogo ed è stata fatta molta attenzione su questo aspetto. È stato possibile in qualche modo arrivare alle sorgenti delle informazioni non solo per cataloghi ma anche per singole amministrazioni. Quindi noi oggi abbiamo a disposizione sul portale Ticovit che contribuiscono, alimentano il catalogo nazionale diciamo oltre qualcosa in più di 60 cataloghi, 60-65 cataloghi ma in effetti le amministrazioni sono oltre 500 insomma quindi sono due numeri diversi. Noi abbiamo fatto in modo di rendere possibile quindi anche attraverso la selezione, anche attraverso le funzionalità di ricerca di arrivare direttamente alla singola amministrazione o di cercare dati direttamente per singola amministrazione. Abbiamo attivato le funzionalità di ricerca per parole chiave che è un elemento molto importante in quanto ci consente un'ulteriore aggregazione rispetto anche alle tematiche, alle categorie tematiche del profilo di Cattapin. Abbiamo attivato le ricerche anche per i cluster Inspire laddove eventualmente con il passaggio delle informazioni del catalogo geografico nel catalogo Ticovit abbiamo fatto in modo di poter esplorare la ricerca non solo per le categorie tematiche del profilo europeo di Cattapin ma anche per le categorie dei cluster Inspire. Ci stanno le classiche funzionalità di ricerca avanzata e diciamo volevo qua evidenziare anche l'aspetto della categorizzazione delle notizie non c'entra con i dati ma avere una possibilità di cercare notizie per categoria è un ulteriore elemento che favorisce l'approccio e l'utilizzo del portale relazionale Daticovit. Un ultimo segnale appunto il validatore di back office ma di questo tema poi ce ne parlerà un po' più diffusamente l'intervento di Piero successivamente che appunto si addentra alle varie problematiche del portale con l'obiettivo di andare a trovare elementi che possano favorire e migliorare la qualità delle informazioni presenti nel catalogo. Un ultimo elemento di rilievo è l'integrazione del catalogo delle basi dati della PIA quindi a questo diagramma si aggiunge anche quest'altro tassello basi di dati il quale appunto mentre prima era una piattaforma a sé stante ancorché diciamo esso conteneva delle informazioni non più aggiornabili e non più aggiornate l'abbiamo voluto inserire come previsto nel piano terminale l'abbiamo voluto inserire all'interno del portale Daticovit come un catalogo a sé stante quindi non interferisce minimamente con il catalogo dei dati aperti sono due strutture distinte e separate però abbiamo riunito appunto in una sola infrastruttura questo catalogo che era stato costituito qualche anno fa in forza di una legge di una norma ben specifica che prevedeva appunto che le amministrazioni comunicassero all'agenzia tutte le proprie banche dati a prescindere se fossero aperte o chiuse ma sono le banche dati che in qualche modo vengono utilizzate per le proprie attività e questo fu fatto all'epoca e adesso l'abbiamo ricondotto in questo app poi probabilmente questa infrastruttura potrebbe eventualmente essere utile alla luce delle prossime azioni che verranno eventualmente previste nell'ambito della strategia nazionale dei dati per poter consentire un eventuale aggiornamento di questa parte di catalogo abbiamo definito un piccolo editor online attualmente in fase beta in sperimentazione che appunto ne consente l'aggiornamento è chiaro che un domani se l'amministrazione dovesse questa cosa dovesse essere reiterata attraverso la strategia nazionale dati si potrà poi pensare anche anche in questo caso a raccogliere i dati mediante arresti naturalmente come è avvenuto nelle altre esperienze nelle altre circostanze questo editor online potrebbe teoricamente essere utilizzato anche per quanto riguarda il catalogo di dati aperti ma evidentemente non vogliamo che sia questo lo strumento visto che ormai diciamo esiste un profilo definito esiste insomma una modalità di raccolta dati automatizzato quindi e lo lasciamo questo editor limitato alla sola al solo catalogo del basi dati un'ultimissima due parole sull'interfaccia che avete avuto modo sicuramente di vedere insomma che è molto diversa rispetto alla precedente anche se abbiamo naturalmente mantenuto i loghi tematici che erano stati diciamo resi disponibili un po' di tempo fa e naturalmente nel definire la nuova interfaccia abbiamo naturalmente tenuto conto delle linee di guida di design per i siti web e delle linee guida in materia di accessibilità due elementi fondamentali per quanto riguarda appunto la costruzione dei siti della pubblica amministrazione e a questo punto avrei concluso il mio intervento vi ringrazio per l'attenzione forse ho sforato di qualche minuto penso di sì ma chiedo a Ugo appunto di intervenire per poter poi procedere al passaggio successivo alla presentazione di Piero si addentrerà in emeandri del back office di tutto ciò che sta dietro al portale al catalogo dei dati aperti e ci dirà una serie di informazioni per migliorare la qualità che è un obiettivo specifico il miglioramento della qualità dei metadati un obiettivo specifico del piano triennale grazie bene grazie 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 gabriele hai già fatto tu a questo punto la presentazione di di francesco e diciamo i contenuti del suo del suo intervento quindi passo direttamente essendoci tanta carne al fuoco non rubo altro tempo e do la parola a francesco per l'esposizione della sua della sua presentazione grazie a te francesco grazie grazie a tutti vedo che siete un bel po di persone e vi ringrazio a nome di tutti da tutto lo staff a me tocca un po il compito di entrare un po nel dettaglio entrare un po in trincea e sporcarci un po le mani oggi abbiamo deciso di dare un taglio molto pratico operativo ma per ovvi motivi ha bisogno anche di essere contestualizzato all'interno di cornici un po più un po più ampie ci focalizzeremo sul sul sicane ma già vi dico che sicane non è l'unica piattaforma che raccoglie i dati e di permette ad agide di arvestarli uso già un termine italianizzato di un concetto più astratto che il concetto dell'harvesting lo definisco subito l'harvesting è la possibilità la capacità da parte di un catalogo di dati di un sito web di poter prendere automaticamente dei dati da un altro sito web questo è un po l'emblema anche dei dati aperti se vogliamo perché hanno un formato aperto e una licenza aperta quindi il formato crea la possibilità di creare appunto una interoperabilità il punto qual è il punto che quello che voi vedete come frontend su dati.gov.it è la parte è la carrozzeria non è il motore tutti gli apparati che ci stanno dentro per cui voi immaginate che ogni qual volta voi trovate un dato qui su questo metacatalogo nazionale inevitabilmente proviene da una pubblica amministrazione locale che decide lei a lei la titolarità di che dati pubblicare con relativi metadati e quindi se sono dati geografici non sono dati geografici noi non possiamo andare a prendere in automatico dei dati se non c'è dall'altra parte una richiesta quindi già vi invito da subito se avete un catalogo di dati aperti oggi vi farò un po vedere come organizzarli armonizzarli e ci avvisate e noi come agili veniamo a prenderli e facciamo questo grande catalogo come se fossero delle grandi pagine bianche o pagine gialle secondo se lo usiamo per il business o solo per il concetto valoriale della trasparenza di tutti i dati italiani. Siamo in una fase molto avanzata prima Gabriele dottor Ciasullo ci ha già detto che noi siamo abbastanza avanti non abbiamo problemi di performance per cui abbiamo già sforato tutti i nostri obiettivi quello che però è importante è che abbiamo comunque un monitoraggio triennale per migliorare la qualità di questi metadati e lì ci stiamo ponendo noi come obiettivi. Ecco si passa da un'ottica di ariempimento a un'ottica di cooperazione perché i nostri obiettivi come sistema paese sono la somma di tutti gli obiettivi di tutte le singole pubbliche amministrazioni italiane. Quindi ogni amministrazione che fornisce i propri dati e noi li avvestiamo concorre alla qualità dell'intero sistema paese. Il nuovo portale dati.gov va sotto al cofano dei meccanismi per cui possiamo prendere dei dati dalle pubbliche amministrazioni centrali, ministeri, possiamo prendere i dati dai comuni, dagli enti federatori intermedi, veniva citata prima provincia autonoma di Trento ma ce ne sono tante, c'è la regione Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, ci sono alcune regioni, non tante, la metà circa, che sono soggetti federatori dei comuni e degli enti subordinati, quindi delle partecipate o eccetera. In modo tale che ogni comune, ogni ente pubblica i dati o sul proprio portale o addirittura sul portale messo a disposizione della regione e noi prendiamo i dati della regione. Quindi abbiamo la Toscana che ha 6.000 dataset, adesso vi definisco cos'è il dataset, così come la provincia autonoma di Trento eccetera. Altre regioni invece hanno un'attività in cui pubblicano i dati istituzionali e regionali e non sono collegati ai comuni sul territorio. è una scelta politica, amministrativa, di processo, quello che volete, è emblematico il caso della Sicilia, dove c'è un ottimo portale open data regionale e c'è un ottimo portale, il comune migliore in Italia, del comune di Palermo, il comune di Palermo pubblica 1200 erotti dataset. Ok? La novità che noi riusciamo a prendere della casetta in vari formati e in varie fonti dati, perché non è detto che i sistemi che vengono utilizzati dalle pubbliche amministrazioni locali che noi rivestiamo siano identici, anzi non è quasi mai così. C'è uno standard prevalente che è quello appunto del Siken, poi ci si sa anche Socrata, esistono amministrazioni che hanno il know-how per realizzare in maniera custom la metadattazione dei propri dati, esiste il Drupal che è un CMS che può essere aggiornato e integrato con dei plugin, delle estensioni che permettono la compatibilità con il portale italiana dei dati. Allora, quello che voi avete visto esteticamente, quello che vedete su dati.gov.it è appunto la parte estetica di quello che è il motore interiore. Il motore interiore è un Siken, è un Siken dove ogni sabato e domenica noi andiamo a prendere i vostri dati e li aggiorniamo, siamo a circa 48.000, dato più dato meno a seconda delle amministrazioni quello che aggiornano, diciamo sui 48.000 dataset, cioè argomenti. Elezioni, Parlamento europeo 2014, dati sezione scutinata, leggete qui. Questo è l'argomento, si chiama dataset. All'argomento ci sono collegati i file in formato aperto, in questo caso è un file in formato XML, quello si chiama risorsa. Questo vale in generale. Allora che succede? Che il profilo per cui vengono catalogati i famosi libri della biblioteca di Alessandria che diceva prima Ciasullo, è un profilo che è uno standard. Esiste lo standard, il profilo di metadadazione di KTP con la versione italiana che ormai ha qualche anno, parentesi e ringrazio tutte le persone che prima di noi hanno contribuito alla creazione di questi oggetti, che sono anche degli oggetti, sono delle ontologie, cito Giorgio Alodi, ma ce ne sono tantissime altre persone, questa è una derivazione europea. In Europa si usa il DKTP e noi abbiamo fatto una versione compatibile al 100% con il DKTP dove alcuni oggetti che erano opzionali sono diventati obbligatori, o viceversa alcuni raccomandati sono diventati opzionali. Ogni entità, ogni oggetto, vedetela così, il dataset, il catalogo dei dati, la risorsa, sono collegati tra di loro. Sono collegati tra di loro in maniera con delle etichette, con dei criteri, con delle procedure che sono appunto il profilo di metadadattazione. Quindi non possiamo inserire i dati come vogliamo noi sul nostro WordPress per capirci. No, bisogna eseguire uno standard perché più è compliant il nostro portale internet con questo standard, più è più facile ricercare i nostri dati. Immaginate le pagine gialle d'Italia e noi dobbiamo cercare i trasporti pubblici o l'elenco delle strutture recettive o gli alunni iscritti alla scuola del primo ciclo. Beh, se ognuno scrive le cose come vuole è difficile che riusciamo a fare un'unico grande integrazione di tutti i dati. Considerate che il CCAN che offre Dati.gov è a sua volta interrogabile, ha delle API pubbliche dati.gov.it slash open data slash e poi c'è la specifica di come interrogare i dati, per cui io posso per esempio filtrare tutti i dati italiani, o meglio tutti i cataloghi italiani, le risorse italiane, i dati italiani che hanno la parola PIPPO o che fanno parte del tema trasporti o sociale eccetera eccetera. Il profilo di metadattazione è raccontato in maniera human readable, quindi accessibile all'uomo tramite il nostro sito internet, o meglio il sito del del dipartimento, dove trovate le cosiddette linee guida cataloghi dati di Cattapiti. Sotto vi ho messo il link, tanto poi avrete queste slide, dove lì viene un po' spiegato quelli che sono gli elementi fondamentali e quindi gli elementi obbligatori, quelli opzionali e quelli raccomandati. Iniziamo subito nel dire che stanno già in Europa facendo il profilo di Cattapiti 2, addirittura si sta pensando al 3. In questo momento noi abbiamo il nostro profilo italiano, in questo momento dobbiamo adattarci a questo nella maniera più precisa possibile. Che cosa ci dice questo profilo di metadattazione? Che il catalogo dei dati, portale, dati aperti, regione, portale, dati aperti, comune, regione, portale, dati aperti, ARPA eccetera, il catalogo ha degli elementi obbligatori. Vengono codificati, come abbiamo visto prima, con dei termini ben precisi, DC Title, GT Description, Publisher, DCD Modifier e DCAT Dataset, che sono gli eventi obbligatori. Allora, è chiaro che il funzionario di un comune X non entra nel dettaglio di queste cose, ma deve sapere che esistono e deve sapere quello che viene compilato sul proprio applicativo, come viene trasformato in questi nomi, come viene mappato. Per cui se mancano al alcune informazioni tanto sono opzionali, si peggiora la qualità della propria metadattazione e in alcuni casi si creano anche degli errori fermali, che vengono poi ripercossi e riprodotti a livello nazionale. Quindi il catalogo ha questi dati obbligatori, il dataset, l'argomento ha questi altri campi obbligatori, poi vediamo il dettaglio, l'identifier, il title description, il modifier, il tema, il titolare giuridico, il rights holder, quindi colui che decide qual è la licenza che deve avere quel dato che viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, il campo obbligatorio è la frequenza di aggiornamento, il campo obbligatorio è la distribuzione, cioè le risorse che sono collegate e con che formato vengono distribuite. Quindi la distribuzione, entrando nel dettaglio, a sua volta il formato, Excel, CSV, PDF, considerando che nella scala dei dati aperti, i formati aperti che dovrebbero essere il minimo sindacale, sono almeno quello a tre stelle, cioè i CSV, i TSV, l'XML, fino ad arrivare all'RDF che sono ancora più strutturati e i link e dopo in dieta. Il PDF o l'Excel sono di primo livello, addirittura non creano interoperabilità, quindi più che altro nascono dall'occhio umano, non nascono per permettere un'altra macchina di leggerlo e rielaborarlo. Attenzione che queste cose che voi vedete in questi tre punti, sono tra gli errori più frequenti che noi abbiamo sul portale italiano dei dati aperti. I successivi ulteriori punti di attenzione sono come scriviamo l'organizzazione che è il titolare del dato, quindi il soggetto dell'organizzazione, il famoso punto di contatto io cittadino potrei avere due necessità, contattare il comune di Trispiano per dire questo catalogo mi piace, non mi piace, oppure vorrei sapere se è possibile pubblicare questi altri dati, oppure avrei necessità di contattare il singolo soggetto che è il referente tematico della banca dati, quella che viene definita dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informatico pubblico, il referente della banca dati, cioè ho aperto il file dei trasporti pubblici, non mi trovo su queste informazioni, mi può dare un'informazione più specifica e lo puoi chiedere solo a chi ha redatto tecnicamente quel file o ne comprende il contenuto, immaginate sull'istruzione, sulle strutture ricettive, su qualsiasi cosa. Quindi i punti di contatto sono due, poi li vedremo, una dell'organizzazione e una del data set. Sono degli elementi raccomandati, ma noi come Agit vi chiediamo la cortesia di considerarli come se fossero obbligatori, perché nell'esposizione su dati COV, nel mega indice generale, sono fondamentali la parte del cittadino per sapere come contattare l'ent. Sapere genericamente che è il comune X, non c'è un'email, o c'è addirittura la PEC, o nel caso del data set non c'è nulla, voi perdete la bidirezionalità nei confronti al cittadino e chi riusa i vostri dati, perché non può chiedere delle informazioni aggiuntive. Adesso parto da una parte un po' più tecnica. Il vostro catalogo dei dati, per esempio il caso del C-CAN, ma di qualsiasi catalogo dati, poi alla fine fornisce un end point, cioè fornisce un file, o meglio un indirizzo in cui è presente un file, che noi di Agit prendiamo per portare i vostri dati su dati COV. Un indice in cui sono strutturati i dati in maniera compatibili al DCAT-APT, oppure perlomeno compatibili all'ARVESTING, le differenze poi le vedremo. Quindi c'è scritto un elenco in un file che si chiama RDF, oppure in un file che si chiama TTL, come formato, e c'è proprio scritto quello che abbiamo detto fino adesso. Trasforma il vostro sito web dove sono messi e ricaricati i dati in un oggetto, in un oggetto di testo, perché sono file di testo, dove c'è l'elenco del catalogo, chi è il titolare, quali sono i dataset, qual è l'indirizzo di ciascun dataset, eccetera. Ci sono comuni piccolini, come i comuni di Crispiano, che hanno un unico file, quindi su dati.comune.crispiano.ta.it slash catalogo.rdf vi viene scaricato il file con l'elenco, l'indice e la strutturazione dei dati dell'intero catalogo. I catalogo un po' più grandi, come possono essere quelli della regione toscana, hanno alla fine dell'URL anche page uguale 0.1, 0.2, 0.3, perché sono a blocchi di 100, per esempio, dataset per pagina. Quindi noi lanciamo un automa che interroga la pagina 1 e si prende i primi dati, la pagina 2 e si prende i secondi dati. Questo è importante e poi lo vedremo. E poi c'è il caso, per esempio, del Cuneo di Milano, mi approfitto per fare i complimenti, le lezioni sono finite, per cui posso dirlo senza creare confusioni o problemi diplomatici. Il Comune di Milano è andato anche al di là del concetto dell'open data come riempimento, ma ha fatto la rendicoltazione di mandato politico, tutti in open data, con grafici, mappe, eccetera. Questo perché gli open data, oltre a servire per il business, servono per la contabilità, per rendere conto. Ed è il primo Comune in Italia che ha fatto una cosa del genere. Complimenti all'assessore Riparini, al gruppo di lavoro, di Matteo Massenzio e gli altri. Così come, per mettere i miei complimenti, al Comune di Palermo, dove tutta questa operazione non viene fatta all'interno di un programma, un CMS standard come il C-CAN, eccetera. È fatto in maniera sartoriale dalle competenze all'interno della pubblica amministrazione e del webmaster in affiancamento con funzionari storici come Ciro Spataro o esperti di semantica come David Aima. In quel caso, anche qui, noi puntiamo un file che ci è stato messo a disposizione e dove noi prendiamo i dati in automatico. La stessa cosa fa la protezione civile, il saluto per Luigi Cara, il Comune di Bologna, l'INPS, eccetera, eccetera. Poi esistono degli enti centrali, in alcuni casi anche locali, che fanno un grande database e permettono interrogazioni di questo database secondo quello che si chiama LinkedIn Open Data, secondo un endpoint Sparkle, cioè noi lanciamo una riga che interroga il loro database e il database ci risponde secondo lo standard del DCAT-APT. Ci genera il famoso file RDF interrogando dinamicamente il proprio database. Questo è il caso dell'ISPRA, ma il MIBACT è uno dei più importanti in Italia, che ha fatto intere ontologie sulla conoscenza, l'arco, o sui luoghi e gli eventi come il culturalon. Quindi noi abbiamo vari interlocutori dall'altra parte e abbiamo anche, come è il caso del Ministero del Lavoro, un sito web fatto in Drupal, dove sono inseriti i dataset, esteticamente ha una personalizzazione spintissima perché il CMS permette di fare quello che voi volete, però dentro ha pensato a due sezioni. La sezione dell'API, quindi già si trova con quelle che sono le indicazioni della direttiva PSI, delle API interrogabili, compatibili col SICAN, e questo avviene con il Drupal 7, con le API versione 3, e quindi io ho quell'indirizzo API slash 3 slash action slash package list, dove io come agit vado a prendere quei dati e poi mi interrogano uno, tutti i dati a 7 mili in porto. Questo non è scontato perché molti che hanno il Drupal, hanno queste versioni fatte magari negli anni precedenti, rimaste all'API 2 e noi non possiamo rendere i dati. Ancora, questi dati finiscono nel back-end compilando una tabella che ci permette esteticamente di controllare se sono stati caricati correttamente i dati oppure no. Quindi questo è anche un qualcosa che l'utente funzionario della pubblica amministrazione controlla visivamente se i dati che è inserito sono corretti oppure quindi questo è il caso, è sempre comune di Crispiano, c'è l'identificativo, poi lo vedremo nel dettaglio, il tema, il sottotema, l'editore, la data di modifica eccetera, e soprattutto c'è la licenza nella risorsa, perché c'è anche un po' di confusione, spesso viene messa la licenza solo al dataset. Dati di frutti solidi urbani, il CKN o il sistema mi permette un menu a tendina, Creative Commons, ma il profilo di metadattazione vuole che la licenza sia applicata alla risorsa, quindi al file che io ho allegato, e spesso non viene fatta questa cosa, poi vedremo perché e che cosa comporta. Esteticamente tutto questo è quello che voi vedete sul portale dati Gov, quindi noi prendiamo alcuni di questi metadati e li esponiamo per facilitare la ricerca e l'indicizzazione, per cui proprio quel file che avete visto prima viene poi esposto in questa maniera. I rischi sono i campi obbligatori, ci sono degli errori che sono per esempio trasversali a tutti i CKN d'Italia, lo farò vedere, degli errori tecnici purtroppo integrati nel sistema, vi dirò come peccarli, e il concetto in generale che ci sono dei campi obbligatori e dei campi non obbligatori, che sono fortemente raccomandati. Qual è il punto di miglioramento nazionale su cui c'è il monitoraggio? Cercare di uniformare quanto più possibile le licenze, Agit vi suggerisce di usare la licenza CC BY 4.0, cioè la Creative Commons attribuzione nella sua quarta versione, che integra il dito su generis, eccetera eccetera, come licenza predefinita. In alcuni casi la CC 0, pubblico dominio, seguendo pari passo quelle che sono le indicazioni della comunità europea che applica queste due licenze ai propri dati amministrativi del settore pubblico. Qua stiamo parlando di dati dei settori pubblici e pubbliche amministrazioni. Abbiamo un problema, come vedete in questa freccia di sinistra, noi ci troviamo dentro da TCOV 12.621 licenze sconosciute, in verità sono un po' di meno perché la provincia autonoma di Trento in questi giorni ha fatto già un salto migliorando e azzerando completamente le proprie licenze sconosciute, erano 1.600, quindi parliamo di 11.000 ad oggi licenze sconosciute, che possono migliorare solo grazie a vostro aiuto, cioè nel momento in cui voi aggiustate questi dati o metadati sui vostri cataloghi locali, noi in automatico miglioriamo quelli nazionali, quindi concorriamo in ottica cooperativa come vi dicevo. Lo stesso problema ce l'abbiamo sui formati, spesso viene inserito il file tal dei tali, il formato Excel, JSON eccetera, e non viene messo il formato di distribuzione, che sembra una ripetizione, ma non lo è, perché il formato semplice è per far apparire sul vostro sito l'icona che è il file giallo CSV, verde, Excel eccetera, il fatto di distribuzione è il formato con cui arrivate a noi, a dati GOV, con il profilo di metadattazione, se non lo inserite esce i dati T-DAT PRO, cioè i dati sconosciuti nel loro formato. Vedete che è una catena, il portale europeo dei dati aperti, Data Europe, prende i dati da dati GOV e da tutte le nazioni, quindi che succede? Se voi aggiustate il vostro piccolo catalogo, diventa aggiustate il catalogo medio, quello nazionale, per poi arrivare in quello grande, quello europeo. Tutti concorriamo alla qualità dei metadati internazionali. vi do alcune indicazioni. Questa è la Toscana. La Toscana è un ottimo catalogo federato dove va a prendere i dati del comune di Firenze, del comune di Pisa, eccetera, eccetera, quindi federa i metadati e i dati praticamente di tutti gli enti, come vi dicevo, sotto di sé. C'è un problema. Quando noi importiamo questi cataloghi così grossi, capita spesso, capitato in Trentino, capitato adesso in Toscana, che quando noi facciamo pagina 1, pagina 2, pagina 3, arriviamo a un certo punto, c'è una pagina che ci dà l'errore. Provate anche voi, dati.toscana.it slash catalog page 22, da un server error. Noi non sappiamo qual è l'errore che lo genera, che noi non accediamo ai log interni. Spessissimo sono dei metadati sbagliati del soggetto che viene arrestato. Manca la licenza, manca un tema, manca un qualche campo obbligatorio. Il SICEN, perché ho pensato a Toscana e su SICEN, non trova quei campi obbligatori e si impalla. Quindi che cosa succede? Che noi per poter prendere i dati della Toscana, in questo caso specifico, non andiamo a prendere i metadati dal formato RDF, cioè dal formato dove ci sono scritti tutti i campi, siamo costretti a fare un harvesting più light, un harvesting tradizionale, come se la Toscana non avesse il profilo di catapitti e andiamo a prendere i dati della Toscana saltando alcuni campi, il campo dell'editore, alcuni campi, per cui voi vi trovate spessissimo che se andate sul sito della Toscana nella visualizzazione del dataset, di uno di quei 4377 ottimi dataset vengono rilasciati, voi trovate tutte le informazioni, poi andate su dati GOV e quelle informazioni non sono più riportate, proprio per questo motivo, perché noi siamo costretti a bypassare il problema dell'arvesting, però innanzitutto come agisimo a disposizione, per ognuno di voi fornirvi, lo vedremo dopo, degli elementi per migliorare la qualità dei propri metadati, o in questo caso tecnica, però ciascuna amministrazione dovrebbe fare un autocontrollo della qualità dei propri metadati, prima di tutto facendo catalog.ordf1.ttl e vedendo se tutti i campi sono corretti, e poi provarsi a fare, la Toscana vedendo quanto sono grossi, ma immaginate una un po' più piccola, ogni tanto ciclicamente vedere se funziona, quindi fare uguale page 1, page 2, page 3 sarà uguale, 20 pagine, 30 pagine, se non mi dà mai errore, almeno so che formalmente, grammaticalmente il mio portale è fatto in maniera corretta. Questo è il caso per esempio dell'anticorruzione, l'anticorruzione ha fatto un ottimo portale, ha 48 dataset pesanti, perché non è il numero di dataset che indica la qualità di un portale vendetta, qua ci sono due errori in cui, probabilmente se il litro mi sembra che sia responsabile di questo portale, non conosce, non sa che ci sono. Sono degli errori, uno risolvibile banalmente ed è in comune a tutti i C-CAN d'Italia. L'altro è un problema un po' più raffinato, che è il punto dove c'è l'email relativamente all'organizzazione anticorruzione, che per un errore tecnico del C-CAN viene esposto in maniera sbagliata, quindi in un caso bisogna entrare nel codice di programmazione, nell'altro nel semplicissimo back-end. Vediamo un po' come compilare, nel caso del C-CAN, correttamente i vari dati. Allora, tutti i C-CAN hanno una sezione gestita dall'amministratore di sistema. L'amministratore di sistema ha in alto un'icona che è una specie di chiave inglese e ci permette di entrare nella configurazione estetica esteriore del front-end del nostro catalogo, quindi in questo caso portare aperti i dati del comune di Crispiano. Il titolo del sito, in questo caso il portale dei dati aperti, e poi è tradotto in maniera terribile nel C-CAN un campo che non risulta obbligatorio, che si chiama sottotitolo del sito. Questo è un errore enorme, è un campo obbligatorio, non è il sottotitolo, ma è la descrizione. Tutti i C-CAN d'Italia, la maggior parte, hanno un errore nel validatore interno di dati.gov, perché manca la descrizione, perché uno lo cerca e non lo trova. Poi, analizzando nel dettaglio, si è capito che quella descrizione è semplicemente questo sottotitolo del sito, che ripeto, per un errore non c'è l'asterisco che è il campo obbligatorio, un errore del C-CAN, quindi non è coppa vostra, adesso ve lo sto dicendo, lo sapete, quindi se il link dell'anticorruzione entra, adesso vi sto parlando nella configurazione, scrive portale dati aperti dell'anticorruzione, è probabile che quel campo non si visualizza, perché spesso voi avete un logo grosso che non fa vedere nel titolo e nel sottotitolo, e in automatico quell'errore scompare. Attenzione che quell'errore poi viene ripetuto su tutti i dataset, perché ogni dataset c'è l'elenco del catalogo, quindi io non l'ho scritto una volta, c'ho 48 dataset, viene ripetuto 48 volte l'errore. Il titolo è il titolo del mio catalogo, sempre l'amministratore di sistema nella stessa pagina deve inserire gli altri campi obbligatori, cerchiamo un po' di capire, l'editore del dataset ma anche del catalogo, ufficio, servizi informativi, tal detali, è il codice IPA. Il codice IPA è il codice che voi trovate sull'indice della pubblica amministrazione, indicepa.com.it, voi cercate la vostra amministrazione, sia se siate un catalogo federato, che se siete un catalogo semplice, e lì c'è il codice IPA, in questo caso C-171 è il comune che vediamo prima di Crispiano. Ora, i catalogi di solito possono essere o con un'unica organizzazione, il comune di Crispiano a soli dati del comune di Crispiano, possono essere delle partnership che voi fate voglia di accordi quadro sul territorio, il comune di Lecce, all'interno del portale del comune di Lecce, la Camera di Commercio di Lecce, così come il comune di Matera o possono essere tantissimi altri, le regioni hanno tutti i comuni con cui c'è l'accordo quadro, quindi devo battezzare l'organizzazione all'interno del mio SICEN. Attenzione che l'organizzazione è l'unica titolare giuridica del dato, perché lo decide il comune tal detali, anche se io sono una regione, lo decide il comune tal detali, con che licenza per esempio rilasciare il proprio data, e quindi le proprie risorse, sa se sono mesciate o no, poi ne parliamo. Quindi è importante, anche se sembra una cosa didascalica, che noi compiliamo correttamente tutte le sezioni. Quando noi battezziamo l'organizzazione, è quello il nome con cui appare, che poi noi ci portiamo in dati GOV, comune di Crispiano, scritto come c'è scritto sull'indice PA, C maiuscola, C maiuscola. Come noi scriviamo quel titolo, che poi sarebbe appunto, ripeto, il titolare, in automatico viene creato il cosiddetto URI, cioè l'indirizzo internet che identifica sul mio catalogo quella organizzazione. In questo caso vedete, comune di Spazio Crispiano diventa comune meno di meno Crispiano, perché i caratteri spazi accentati in un indirizzo internet non ci devono stare. Mi rivolgo a tanti amici con cui non riusciamo a prendere i dati, perché gli indirizzi internet delle risorse o delle organizzazioni sono sbagliati, vengono inseriti automaticamente in maniera sbagliata e quindi il sistema di validazione dice l'URI è sbagliato. Una descrizione, data set inseriti dal comune dai funzionari a dettagli, l'aura dell'immagine non fa male nell'icona estetica, e mail. Ora attenzione che questo è il campo del punto di contatto, il famoso campo raccomandato, perché io so che al comune X questa è l'email che identifica il comune o addirittura, posso anche mettere il campo libero, per esempio l'RTD, che può essere, può dare una mano a chi deve contattare il portale open data, sapendo di contattare direttamente il responsabile della transizione digitale o l'open data manager. E poi c'è sempre il solito codice IPA, in quel caso sono campi obbligatori, sia l'email che il codice IPA. Questo è il contact point dell'organizzazione, che in questo caso coincide anche col titolare e con il titolare del dataset, il rights holder. E poi entriamo in quello che fa il funzionario o che un sistema automatico compila, attenzione, a questi script di autocompilazione dei sistemi automatici. Ci sono dei campi obbligatori, ci sono dei campi che, anche se risulta formalmente che sono stati compilati da obbligatori, sono sbagliati sul contenuto. Vediamo. Adesso vado un po' più veloce, però dovete stare un po' più attenti. Il titolo, trasporto pubblico locale. Il titolo deve essere quanto più possibile non lungo, perché il sistema lo trancia, quindi se io scrivo elezioni politiche 2018, spazio relativi al Senato, alla circoscrizione e tal dettaglio, per me risulta elezioni politiche 2018, spazio Senato, stop. Che succede? Che se io ho 10 dataset con 10 circoscrizioni, per me hanno 10 titoli identici e il sistema prende la prima e scarta le altre 9. Perché quello che voi scrivete nel titolo viene al 99% codificato in quello che si chiama identificativo del dataset. Perché è spesso, spessissimo, in linea corretta, molti di voi che fanno? Prendono il titolo. Il titolo, come vedete, evidenziato in giallo, genera trasporto meno pubblico, meno locale, come nel caso l'organizzazione. Viene preso, fatto, copia, incolla nell'identificativo del dataset. Lo vediamo un attimo tra un secondo, dove per convenzione noi mettiamo il codice IPA due punti identificativo. E identificativo dove non possono essere uguali. Non posso trovarmi 10 dataset che sono identici. Quindi cerchiamo di usare i titoli stretti e poi quando vado a creare l'identificativo del dataset mi devo ricordare assolutamente di creare qualche cosa per cui si vengono diversi l'uno dall'altro. E' come se fossero i codici fiscali, dove la prima parte identifica la vostra amministrazione. Trasporti. Questo è il caso dei trasporti. Che sono i trasporti? Sono i temi. Sono 13 temi. Trovate sempre sulle linee guida che vi abbiamo elencato prima. E' un campo obbligatorio. Se voi non avete il C-CAN o non avete un sistema che mappa questo tema, quando viene importato? Mi dà errore. O peggio, non è compliant. Può sopportare alla metadattazione di KAPT. Il sistema qualche volta mette in automatico dati provvisori, OTP, DALT PRO e quei 18.000 che avete visto prima sono dati provvisori o del formato o proprio perché non avete messo il tema. Poi ci sono altri campi che sono l'editore, la data di modifica è obbligatoria. Quando è stato l'ultima volta che avete modificato il dataset? Non il file. Il dataset è questo importantissimo. Dati geografici. C'è un elenco dei comuni che secondo la Comunità Europea sono già codificati. Se non c'è il vostro comune, quindi non si può avere una copertura geografica omogenea, oppure nel caso dell'università, vedo l'università di Bari, non può mettere copertura geografica Bari, perché magari sta parlando degli alunni che pagano le tasse. Beh, è in un'altra legione. Se vuole può mettere Bari, ovviamente. Però ci sono dei casi in cui non si può fare questa associazione. In quel caso si può usare anche l'Uni del Geonames, cioè io vado sul portale internazionale Geonames, che codifica il nome geografico della mia città, del mio territorio, vado a cercare come si chiama, c'è un link, in questo caso il 31, 74, eccetera, 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 metto quello. Bene. Piccolo approfondimento sul codice identificativo. Ringrazio il gruppo di lavoro del Trentino e dell'Apa Emilia Romagna, che ha fatto un po' di tempo fa proprio questo documento, in cui stavano cercando di creare un glossario, o se volete un manuale operativo. In parte l'ho cambiato perché ci sono dei refusi sulle linee guida nazionali che dobbiamo aggiustare. Il codice identificativo del dataset, come vi ho detto prima, è un codice che deve essere univoco, sia per l'arvesting, sia in generale. Per essere univoco, di solito si usa questa convenzione. Il codice IPA, C, underscore, come l'abbiamo visto prima, due punti, un codice alfanumerico, che dobbiamo essere certi che sia appunto a sua volta univoco. O lo prendiamo dal titolo, come abbiamo visto prima, da lui, lo inserisco, oppure ci sono dei siti che generano dei codici alfanumerici assolutamente casuali, e sono certo, o comunque abbastanza certo, che nel mio caso, nel mio catalogo, non c'è un doppione. Quindi, il codice identificativo, come esempio valido, può essere il C, underscore, E506, che è il comune di Lecce, due punti, questo codice alfanumerico, i 16 civili, oppure lo stesso file, lo posso chiamare E, C, underscore, E506, diviso trasporti pubblici locali Lecce. Verrà generalmente, nei piccoli cataloghi, non ci avrò tante ripetizioni su trasporti pubblici locali Lecce. Finiamo la parte del dataset. Quando io vado a inserire, ci sono degli altri campi, che sono fondamentali, alcuni sono raccomandati, ve le ricordo a destra, i campi fondamentali sono identificativi, ma l'abbiamo visto, il titolo al descrizione del dataset, l'ultima modifica, l'abbiamo vista prima, il tema, il titolare in automatico viene ereditato dall'organizzazione, e quindi vedete qui in questo caso, il titolare comune di Lecce, eccetera, io non posso modificarlo, nell'ultima versione del SICEN, eredita in automatico l'organizzazione, altrimenti se inserisco, so che il titolare è il titolare dei diritti. Altri campi fondamentali sono la frequenza e l'aggiornamento. Allora, se io inserisco il totale raccolta differenziata anno 2018, è ovvio che la frequenza d'aggiornamento sarà mai, perché l'anno successivo metterò il 2019, a meno che so che è un dato non consolidato, quindi metto magari il regolare. Se viceversa io sto inserendo i dati, per esempio raccolta differenziata su base mensile anno 2021, magari io metto aggiornamento trimestrale, quando è consolidato il dato del trimestre precedente, inserisco poi i mesi, gennaio, febbraio, marzo, poi aprile, maggio, giugno, eccetera, eccetera. È importante, perché se voi fate un giro nei vari cataloghi nazionali, vedrete decine e decine di dataset con scritto aggiornamento mensile, fermi a due anni prima, eccetera, eccetera. E questo indica l'indice di performance dell'amministrazione. Cioè questa meta informazione vi conviene essere un po' larghi. Se sapete che non avete molto tempo, perché siamo adoperati da lavori, mettete semestrale, però poi cerchiamo di farlo effettivamente in maniera semestrale. I tag sono le parole chiave, come diceva prima Ciasullo, cioè noi possiamo anche filtrare per parola chiave nella ricerca in questo indice ragionato, che è dati.gov.it, ereditando le vostre parole chiave da là sotto. Immaginate parole chiave a quelle con cui dovete essere, volete essere ricercati su Google. Ecco. Ho fatto una metafora fino a un certo punto, perché Google prende tutti i dati aperti d'Italia, perché la maggior parte dei portali che stanno su dati.gov vengono in automatico, usavo il termine bombardato, ma può sembrare un'eccezione negativa, assolutamente negativa, vengono indicizzati a sua volta da degli automi che ogni secondo prendono i dati per costruire delle banche dati che non sappiamo per aziende, per Google. Ok? Perché Google ha fatto il motore di ricerca di dati aperti, data search, eccetera, eccetera. Ok. L'ultima parte, spesso nei C-CAN voi avete i campi opzionali o i campi liberi cosiddetti, la versione, l'autore. Il campo manutentore è l'altro campo del contact point che diciamo prima. Oggi noi come dati.gov esponiamo solo il punto di contatto dell'organizzazione, ma non escluso che faremo un aggiornamento esponendo tutti e due. Quindi, se ho dei dubbi sul dataset, contatto in manutentore. Se ho dei dubbi sul catalogo, ormai, scusatemi, sull'organizzazione, contatto organizzazione comune X. Quindi questo campo è opzionale, ma è fortemente raccomandato. Ok. Quindi, quello che vi ho appena detto, il punto di contatto sostanzialmente sono due, noi vi chiediamo che questi raccomandati abbiano una valenza quasi da obbligatoria. Infine, arriviamo alla risorsa. Ho allegato il file, i trasporti pubblici. Ora, quando io allego quel file, noi abbiamo avuto due evoluzioni. La prima, ho allegato il file 5 anni fa, il mio webmaster mi ha aggiornato il CCAN ed è rimasto che il file è zip. Nell'aggiornamento è uscito un altro menu a tindina che si chiama formato di distribuzione, cioè il formato con cui voi date i file all'esterno, è risultato vuoto. Quindi che succede? Che noi su dati.gov abbiamo tutti quei campi OT provvisori relativamente ai formati. E lì bisogna andare a mano ad aggiornare tutti i formati. Cioè, il problema è che lì non si può fare una cosa di default, perché se avete legato un file CSV dovrebbe essere CSV, Excel, Excel, JSON, JSON, XML, XML, etc. Però se lo sto facendo io, eh, lo devo inserire. Se lo sto facendo io, mi devo ricordare quello, devo ripetere due volte, zip, zip, xls, xls, csv, csv. Vado un po' più veloce. Quello che non dobbiamo mai dimenticarci è la licenza allegata alla risorsa. Perché questa è la licenza che entra in dati.gov. E secondo il profilo di metadattazione la licenza si applica alla risorsa, non al dataset. Se io non inserisco, ho quei famosi 12.000 dataset senza licenza. Come possiamo fare però in questo caso sono una patch massiva. La patch massiva, dopo che io ho controllato che ho inserito dei campi, mi rendo conto che vado su dati.gov, la licenza non c'è, sono sempre 12.000 dataset, eccetera. Me ne accorgo già visivamente, questi sono due cataloghi dove stanno inseriti i dati sbagliati, o perché sono migrati e non hanno compilato i campi, quindi c'ho l'NA, not available, è un campo che la lingua non la so, l'origine names non lo so, non è conforme, non c'è la frequenza, non c'è il tema, quindi i metadati non mi faranno mai ricercare questa informazione, oppure nel caso a sinistra è un portale, come ce ne sono tanti, che non si sono adeguati al di carta apt e gli mancano un sacco di metadati. Come facciamo ad aggiustare la licenza? Per aggiustare la licenza è una parte un po' più tecnica. Il vostro catalogo di C-CAN ha in automatico un file con una costante che definisce in assenza di licenza metti licenza sconosciuta. Quindi siete voi che inconsapevolmente lo avete definito all'interno del vostro catalogo di dati. Allora per chi di voi è un po' più tecnico deve entrare in questo file che è un file di testo che trovate all'interno del docker parlo un po' per gli esperti o del docker che ospita il vostro C-CAN o entrando direttamente nel C-CAN se l'avete fatto con i pacchetti andate nella file license.py quindi cd use lib ccan default src ccan next dcatap ccan next dcatptmodel vi ho dato il path completo e andate a modificare la licenza di default da c1 e now a la licenza che voi avete deciso giuridicamente del vostro portale di dati. Quindi non possiamo decidere noi perché ognuno di voi ha fatto delle linee guida ha fatto un atto amministrativo dove decide di adottare di default una licenza una stragrande maggiore in altri casi la ccb4.0 alcuni di voi usano la IODL Italia Open Data License 2.0 altri la cc0 come il comune di Milano per esempio quindi il comune di Milano e il comune di Palermo sono i migliori in Italia usano licenze differenti ognuno di voi conosce la propria licenza dell'atto amministrativo della linea guida si tratta di andare semplicemente a variare all'interno di questo file la licenza di default dove c'è scritto default license cambiando la parte finale questo appena fatto il Trentino Alto Adige è passato da 1600 licenze sconosciute a 0 sotto vi ho messo il link dove trovare tutti quanti i codici delle licenze però è una terza ragionata perché lo potete fare solo voi vi ho messo anche questa pagina che è una parte anche qui tecnica per risolvere alcuni errori che i validatori danno e sono sempre bug del cc-end vado velocemente avanti noi abbiamo dei validatori interni questo è il caso per esempio della validazione dell'anticorruzione che mi dà quell'errore ripetuto 48 volte ma anche la descrizione del catalogo qual è la descrizione e il sottotitolo da mettere nel back-end metto qua e l'ho aggiustato tutto così come abbiamo un secondo validatore che vorremmo nella nostra intenzione mettere a disposizione tutti online che è un validatore semantico un po' più profondo rispetto a on-off quindi mi dice tutti i campi automatici tutti i campi raccomandati tutti i campi opzionali mi dà i vari errori con i vari link in modo tale che per esempio il caso dell'anticorruzione mi ripete l'errore che manca la descrizione del catalogo ma mi dice che anche l'urlo inserito nell'organizzazione non è informato URI ed è la patch che ho fatto vedere prima velocemente nella pagina questa è la situazione italiana ho voluto appositamente mettere le regioni ovviamente vedete la Sicilia 138 dataset però poi c'è Palermo che è nel 1400 parliamo delle regioni enti regioni presenti dati gov quelle non presenti sono per due motivi o non hanno un catalogo dati la Puglia lo sta rifacendo in questo periodo o hanno un catalogo dati ma non è compliant al profilo di metadattazione quindi noi non possiamo andare a prendere i dati quindi abbiamo anche questo problema e quindi è un peccato perché non possiamo iniziare nell'indice generale d'Italia e quindi risulta che la Liguria che magari c'è il profilo o la Valera Osta hanno un catalogo dati inserito nel proprio portale ma se non ci danno il file RDF o TTL non possiamo andare a riprendere scusate velocemente ci sono anche i catalogi centrali che non riusciamo ad andare a prendere il Ministro dell'Interno che pubblica i dati sulle lezioni il BDAP che ha 2500 dataset bellissimi però hanno le API precedenti hanno le API 2 del Drupal e noi non possiamo andargli a prendere perché non è compliant quindi ci sono delle cose che bisogna fare degli aggiornamenti di sistema e alcuni Siken non hanno i plug-in per adeguarsi al Siken col profilo di metadattazione attuale finisco con una battuta ma mica tanto non ci focalizziamo su estrapolare solo una parte del processo tutto ciò che noi facciamo nel nostro piccolo si estende in grande e si ripercuote se è un errore e anche se noi formalmente risulta che abbiamo fatto il nostro bel compitino grammaticale semantico con soggetto predicate oggetto alcuni di noi guardano le stelle è una frase famosa non va decontestualizzata da un concetto un po' più ampio alziamo lo sguardo e come diceva Oscar Wilde siamo tutti nati al fango ma solo alcuni di noi guardano le stelle vi ringrazio e per ogni informazione scrivete alla redazione su dati.gov.it c'è il pulsantino scrivete alla redazione oppure adesso si legge in maniera in blu dati chiocciola agid.gov.it lo staff del dottor Ciasullo poi organizzerà il nostro affiancamento nei vostri guardi su qualsiasi cosa avete bisogno sull'aggiornamento dei metadattini grazie Francesco ottimo avete visto come è fondamentale questa componente di collaborazione tra amministrazioni centrali locali dati.gov.it e quanti errori nella metadattazione dei dataset appunto non consentono poi un adeguato harvesting sul catalogo nazionale in questa prospettiva vediamo l'esperienza della provincia autonoma di Trento e la diciamo il loro lavoro di appunto di metadattazione e di come dire incremento di qualità dei dataset pubblicati e ovviamente nella prospettiva di una collaborazione diciamo strutturata tra le amministrazioni regionali e dati govit ovviamente nel quadro delle attività che le regioni svolgono insieme all'agenzia a te Francesca grazie dieci minuti se riesci altrimenti hai un piccolo tempo per sforare a te scusate eccomi qua eccomi ciao buongiorno buongiorno a tutti sì cercherò di essere abbastanza veloce dopo questa bellissimo mattina insomma che stiamo facendo dove abbiamo toccato un sacco di cose che chiunque lavora con gli open data tocca tutti i giorni e si domanda ma cosa ho sbagliato allora dunque allora vi racconto un po' no vi dico qua un po' che cos'è datitentino.it per chi non lo sapesse ancora un po' la storia e con la logica della di federazione di cataloghi cioè la cosa fondamentale è quello poi datitentino.it ha otto anni dal lancio quindi sono otto anni e dentro quindi potete immaginare abbiamo di tutto cioè nel senso cose buone e cose meno buone perché si sa come funzionano le cose le cose si lasciano un po' lì e poi un piano di miglioramento e sviluppo allora il catalogo federato provinciale noi abbiamo appunto sono questo è il catalogo scusate no non volevo entrare e quindi da qui torno e torno qua scusate ecco qua state vedendo le slide giusto? perché ho linkato boh allora allora questo sono gli stessi dati in due contesti diversi due attenzioni diverse quando io sono dentro al mio catalogo federato cioè quindi con gli altri con i comuni eccetera adesso vedremo chi io immagino questi dati all'interno del contesto della mia regione appena passo nel contesto nazionale i miei dati acquisiscono il valore di una comunità molto più ampia in quella nazionale riguardo i miei stessi dati pensando che possono essere usati insieme a quelli delle altre regioni e quindi usati e trovati soprattutto prima di tutto allora il catalogo federato nostro è un punto unico di accesso e abbiamo visto quindi un solo harvester e quindi è fondamentale questa cosa è la cosa utile cos'è? un solo harvester è un punto di riferimento unico per affrontare i problemi una community per raccogliere esperienze e casi d'uso a più livello noi abbiamo la provincia il consiglio provinciale l'inaus l'università la regione ma anche l'edilizia abitativa e i 13 comunità di valle soprattutto i 178 comuni allora il fatto che è una federazione è una cosa interessantissima ed è importante per i motivi sopra ma è anche un network da mantenere vivo nello scorrere del tempo noi siamo partiti nel 2013 e voi potete immaginare ti senti non ti senti ogni tanto ti risenti allora i dati restano lì non aggiornati è la vita che è fatta così e quindi abbiamo anche bisogno di trovare degli strumenti per capire come sono i nostri dati allora questa è un po' la storia del nostro del nostro portale e ve la lascio non ve la illustro per passare a qualcos'altro comunque nelle slide ci sono i link poi ci si può sentire allora dati.gov appunto è una federazione di cataloghi cioè posso riuscire a vedere come gli altri e valorizzano i loro dati come li rendono trovabili da umani e dalle macchine quindi questi sono quelli delle regioni questi sono quelli dell'università dell'azienda sanitaria dove ci sono anche i nostri posso andare a vedere che dati aprono gli altri e come li modellano cioè cos'è che è importante ed è mi piaciuto molto del nuovo catalogo il fatto che riuscivo andare a vedere i miei stessi dati come erano trattati nelle altre regioni questo perché perché più facciamo le cose simili più usiamo standard o ci creiamo degli standard se non sono già stati definiti più i miei dati emergono insieme agli altri dalla massa perché come potete vedere qui si parla di vere masse di dati cioè noi noi ne abbiamo 6.500 in Italia ce ne sono 48.000 in Europa un milione allora cosa vuol dire allora sul milione dei dataset europei per trovarli presumo che ci possono lavorare solo delle macchine cioè voglio dire oppure ogni tanto vai dentro e cerchi qualcosa ma un milione di dataset a trovarli perché ci lavorano le macchine vuol dire che sono perché le macchine li trovano devono essere standardizzati gli stessi 48.000 dataset italiani non è mica facile poi trovarli eccetera se non li abbiamo in qualche modo aggregati usando bene i contenuti dei metadati cioè metadatiamo eccetera ma poi inseriamo anche delle cose in modo simile ad esempio posso rendere più trovabile i miei dati usando temi sotto temi tag che posso facilmente controllare come li usano gli altri e quindi riusando soluzioni che mi piacciono e quindi faccio massa critica i dati dell'ambiente trovo che che ne so in Emilia Romagna hanno usato quel li hanno taggati in un certo modo quella stessa dataset lo uso anch'io e quindi cominciamo a essere di più un altro esempio è quello che il catalogo nazionale è un mio macro utente e l'abbiamo visto oggi col lavoro che ci ha mostrato Peersoft cioè da loro al Vester vedo che errori ho nei miei dati aperti cioè noi non riusciamo a capire bene che dati pubblichiamo finché qualcuno almeno questa è la mia esperienza finché qualcuno non li usa è l'uso che mi dice se quei dati lì sono stati utili o meno e servono hanno errori e meno ecco dati.gov è un mio grande utente che mi dice dal suo punto di vista dove sono i miei errori allora beh questo ve lo mostro perché nel giro è evidente ma non l'ho voluto mettere fra lunedì e mercoledì abbiamo risolto che i 1200 mancanza di cos'era licenza nelle risorse grazie a un'operazione a quell'operazione che Peersoft ci ha spiegato come fare l'abbiamo fatta velocissimamente ed è andata il prossimo lavoro è lavorare su tutti quei dati provvisori che non ci piacciono allora perché il principio grosso è questo che la cosa grossa la cosa importante che dà valore ai nostri dati è se sono fair sapete trovabili accessibili interoperabili e riusabili allora per trovabile vuol dire identificativi livelli e qualità della metadattazione cioè mettere dentro bene i metadati compilare bene i campi dei metadati come ci ha mostrato Peersoft adesso poi anche gli standard anche tutta quella roba però la qualità e metterli bene dentro è già importante allora come pensiamo di fare noi abbiamo fatto questo accordo Agid che anche in molte altre regioni hanno fatto e uno dei progetti è quello degli open data abbiamo un un gant insomma così abbiamo degli obiettivi e come vedete gli obiettivi nostri sono allineati a quelli di Agid perché appunto abbiamo fatto l'accordo perché sono obiettivi che interessano a tutti e qua noi abbiamo il numero di dataset coerenti con gli standard di catapia accessibili dal catalogo cioè il migliorare l'obiettivo è migliorare la qualità dei dati perché questo è un obiettivo sia nostro che loro allora su questo avremmo abbiamo anche iniziato a parlare già dal un po' dal in fase di covid abbiamo lavorato un po' per capire com'erano i nostri dati così robe di questo tipo e abbiamo anche già ragionato e parlato a suo tempo nel 2020 con la regione Sardegna che ad esempio stava lavorando sui temi in modo un po' più approfondito di quello che si trova adesso che insomma ci sono un po' di problemi con i temi sotto temi eccetera per cui la proposta che possiamo fare che stiamo facendo e che vediamo di provare a fare velocemente un gruppo di lavoro interregionale che sistemi che ne so entro la primavera il 22 alcuni passaggi creando un accordo sui tag ad esempio i tag noi potremmo usarli come aggregatori noi ad esempio usiamo il tag tag trasparenza perché non c'è altro modo al di là del sito trasparente che però non è detto trasparenza che i dati siano pendata ecco però nel nostro catalogo non c'è se noi mettiamo tutti ci concordiamo che si usa il tag trasparenza quando ci sono dati sulla trasparenza noi abbiamo fatto la massa critica dei dati della trasparenza sul catalogo nazionale ecco tutto questo con l'obiettivo di renderli più trovabili scusate se sono stata lunga ma mi hanno dato pochissimo tempo e io parlo molto ecco grazie 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 Francesca abbiamo poco tempo a disposizione io andrei a questo punto subito ad affrontare un po' le domande che ci sono state che sono state poste chiederei a Gabriele tu le leggi prima Gabriele poi a Francesco di intervenire a qualcuna vabbè qualcuna avevo già risposto lo stava facendo però vabbè ripiroghiamo un po' da queste qua che vedo qui dunque Francesco Napoli è possibile trovare dati geolocalizzati laddove l'amministrazione non fornisce dati geografici la risposta credo sia proprio no in pratica si trovano dati integrati provenienti da diverse fonti è possibile trovare sul catalogo di dati aperti informazioni geografiche disponibili con una licenza open che sono originariamente metadati e documentati nel repertorio nazionale di dati territoriali poi Scampus se una pia non fornisce i dati Stefano si può ricordare l'accesso civico generalizzato e questa è una domanda diciamo molto interessante non è legata l'accesso civico generalizzato non è strettamente connesso agli open data all'accesso civico generalizzato si può ricorrere in certe circostanze per alcune tipologie di informazioni che sono definite nel contesto della normativa di riferimento è il punto che hai citato tu stesso il decreto legislativo 33 quindi non c'è una stretta relazione però in effetti sui dati aperti la norma già attuale ma lo prevede anche la direttiva che sta in corso di ricevimento ma anche quella attualmente vigente è possibile per chiunque chiedere l'apertura di determinati dataset e c'è una procedura prevista che appunto l'amministrazione deve rispondere a questa richiesta dando le motivazioni in caso di risposta negativa e non solo indicando anche a chi si può fare il ricorso questa è una norma già esistente insomma è una possibilità già esistente ed viene confermata nella nuova direttiva anche se viene un po' la procedura è stata resa un po' più complessa rispetto a quella attuale però esiste si parlerà anche di building information model il no di BIM non è un tema che noi presidiamo quindi anche nelle prossime diciamo sessioni o nei prossimi seminari non si parlerà di questa tematica non è un tema che noi presidiamo non produciamo dati non facciamo questa attività l'iofè ho già risposto in effetti insomma c'è sul daticovit c'è una attenzione in cui è possibile scaricare un file csv con le singole con la lista delle amministrazioni e dei cataloghi di riferimento vuoi che continuo io Gabriele come vuoi alle domande si vai si vai tranquillo allora non è possibile in questo momento risponde Eugenio Berti rappresentare i dati territoriali in una mappa nazionale cartografica perché i dati spesso e volentieri non sono riferiti a un contesto territoriale ben specifico sono trasversali immaginate quello dell'INSS quello dell'INA quello del Ministero del Lavoro e poi in questa fase noi non rappresentiamo il contenuto dei dati noi ci occupiamo dei metadati come indicizziamo questi dati un'altra domanda è di Giacomo Martirano a cui io vorrei dare due risposte una formale e una personale perché il contact point non è stato reso obbligatorio in Dicatta PIT formale il profilo non lo ha recepito personale per me andrebbe interito sono d'accordo con te cioè nella prossima variazione del Dicatta PIT andrebbe messo obbligatorio il contact point poi Luigi De Rosa i dati vengono prelevati periodicamente solo una tantum quando viene segnalata la disponibilità lo chiede perché ci possesse i dati che vengono aggiornati frequentemente e si sorgente rendendo inconsistenti quelli del portale open data allora tutto l'harvesting avviene una volta a settimana il sabato sera finisce la domenica notte ci impiega più di 24 ore per tutti i 50.000 dataset quindi lunedì di ogni settimana voi dovreste trovare i vostri dati aggiornati poi Giacomo Martirano ma se tutte le amministrazioni sono obbligate a usare di carta PIT per i metadati per il loro open data non sarebbe più semplicemente obbligatorio per loro superare una all'azione prima di poter pubblicare su loro allora noi non possiamo obbligare nessuno Gabriele correggimi se sbaglio no aspetta noi non possiamo aspetta diciamo diciamo per la questione del profilo nazionale è diciamo non è uno standard che non è consolidato e quindi le amministrazioni dovrebbero attenersi a questo standard la domanda di Giacomo che saluto e che ci conosciamo benissimo era rivolta la possibilità di un validatore che ho già in qualche modo scritto nella chat pubblica sostanzialmente appunto stiamo lavorando per rendere disponibile un validatore siamo partiti dal validatore europeo di Cattapì e lo stiamo adattando al profilo nazionale con l'estensione IT e lo renderemo disponibile adesso vediamo come service oppure un file zip che poi eventualmente le amministrazioni potranno installare in locale per fare preliminarmente le operazioni di verifica della loro qualità dei metadati dei propri metadati sulla questione di Eugenio Berti voleva aggiungere un'altra cosa che nel repertorio per i dati geografici è possibile fare ricerca attraverso la definizione di un bounding box quindi diciamo quella è un'autilità già presente poi magari su queste tematiche penso che sia Eugenio Berti di Vicenza con cui ci conosciamo penso che sia la stessa persona su questo aspetto possiamo poi fare un periodo di approfondimenti insomma anche in occasione dei prossimi seminari inerenti in modo particolare sui dati geografici ho letto forse Gabriele dovresti leggere l'ultima cosa che ha scritto Ciro Spataro che non è nell'elenco delle cortese messaggio per Agid sarebbe utile che l'intera collettività aspetta ah però sarebbe utile che l'intera interloquire ah la questione PNR diciamo il tema sì il tema è presidiato dal Dipartimento dal Ministero per l'Innovazione dal Dipartimento quindi insomma noi chiaramente insomma collaboriamo con queste attività con il Ministero e per esempio proprio qualche giorno fa sono state pubblicate sono state messe in consultazione pubblica le linee guide per l'interoperabilità fatte appunto insomma tra Agid Dipartimento e Ministero quindi insomma c'è una collaborazione ma diciamo il presidio però del PNR come ben sapete è un presidio diciamo di natura istituzionale politica e naturalmente fa capo al Governo e al Ministro per l'Innovazione per quanto riguarda appunto la parte relativa a tale argomento il MEF che chiaramente per la parte relativa a tutto l'aspetto economico e di monitoraggio come il MITE per quanto riguarda tutti gli aspetti della transizione ecologica c'è un capitolo molto importante molto sostanzioso del PNR e sui aspetti ambientali come ben sapete quindi diciamo non è un tema qualcuno aveva chiesto se c'eravamo dei corsi su questo argomento passeremo questa richiesta ai colleghi che si occupano di formazione non so se ci sarà un corso specifico un seminario specifico sul PNR può darsi che verrà fatto che verrà organizzato insieme appunto ai colleghi del divattimento una per Francesca Agleria e una per maestro rispondo io quella mia è buongiorno grazie per i webinar di Elena Elena Usonio prima non ho capito bene quando l'arvesting ha problemi non viene generato un codice di log di errori allora ci sono vari livelli quando noi abbiamo un arvesting dove dall'altra parte non riusciamo a prendere i dati a noi si pianta si pianta e ci dice identificativo già esistente end point non si raggiunge abbiamo questo problema con il comune di Catania che non riusciamo a raggiungerlo ma probabilmente hanno un blocco loro da parte loro cioè non riusciamo a pingarlo proprio oppure come nel caso della Toscana iniziamo a fare le pagine e poi ci dà un errore io nel log mi dice arrivata a quella pagina errore esintassi diversi invece sono i log del contenuto che noi importiamo nel contenuto che noi importiamo abbiamo dei log che sono appunto quei validatori che ci dicono ok ha importato tutto però il tema è mancante e la descrizione è sbagliata oppure non è formattata in maniera corretta eccetera eccetera sono dei veri e propri log infatti la nostra idea è quella di contattare uno a uno le amministrazioni quelle ovviamente che lo vuole essere siamo a disposizione per vedere portare a zero gli errori o quantomeno al minimo gli errori come stiamo facendo con il Trentino Alto Adige o con chiunque ce lo chiede l'altra è per Francesca sì niente Morena Ragone mi chiede di dire qualcosa di più sulla questione che ho detto prima velocissimamente sui dati della trasparenza anche per non creare non essere ambigua su una cosa importante allora il problema non sto dicendo che i dati della trasparenza non sono aperti perché io tanto sto parlando della mia situazione nella mia amministrazione non sono gli altri posti allora noi abbiamo un portale trasparenza che è una tecnologia differente e slegata quindi c'è una non collegamento tecnologico sulla questione per cui cosa succede che nel portale trasparenza i dati vengono pubblicati con un talato logo open data però in realtà non sono metadatati non finiscono nel catalogo nazionale degli open data allora qual è la questione la questione è che infatti con i colleghi che si occupano del portale trasparenza in Trentino abbiamo già iniziato a ragionare su questa cosa bisogna fare un piccolo lavoro di cultura cioè non aspettarsi che sia tutto automatico perché voglio dire abbiamo tecnologie diverse fatte in periodi diversi non è poi così semplice in questo momento fare la cosa però vuol dire che per esempio per i dati che riguardano la nostra struttura e poi stiamo iniziando con i nostri nel momento in cui io ho i dati aperti nel sito trasparente cioè ho il csv caricato sul sito di amministrazione trasparente quel csv diventerà il mio link e li metà dato sul catalogo a questo punto quei dati diventano aperti secondo gli standard degli open data cioè metadatati e fruibili attraverso un catalogo unico perché finché noi mettiamo i dati disponibili ecco i csv sui nostri portali benvenga che ci sono sono felice giusto meglio che niente ma se non entriamo dentro questa community che permette che i nostri dati siano trovabili e la community è quella che abbiamo visto delle federazioni dei cataloghi noi non stiamo in realtà facendo sta cosa allora ad esempio quando si fa questa operazione mettere un tag trasparenza per tutti i dati che fanno questo processo cioè li abbiamo presi da qualche parte sotto il controllo ovviamente di chi si occupa di trasparenza e poi li rimettiamo sui cataloghi con il tag trasparenza abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti Scusate io diciamo non so se sono 11.31 non so se forse siamo costretti a chiudere credo uno però volevo volevo dire proprio due ultimissime parole ci sono ancora altre domande che magari meriterebbero una risposta ma diciamo possiamo poi raccoglierle e magari contattare le persone in qualche modo sarebbe insomma una cosa ospicabile comunque torneremo sicuramente su queste tematiche perché in effetti questo progetto come è stato detto all'inizio mira appunto a creare insomma un approccio pratico pragmatico con le amministrazioni per le attività in questo caso riferite ai dati aperti e ai dati territoriali ma anche altri seminari sono in programma come ben sapete sempre a cura Agile Formez su altre tematiche volevo quindi innanzitutto ringraziare per la partecipazione cospicua da parte dei vari utenti delle varie amministrazioni e questa è una cosa molto importante e sicuramente avremo altri appuntamenti poi ci sono degli aspetti specifici di carattere più generale appunto che magari necessitano più di un dialogo piuttosto che non di una domanda o una risposta scritta insomma su una chat quindi magari su alcune tematiche ci possiamo sentire insomma anche telefonicamente laddove se ne ravvisi la necessità quindi insomma io lascerei insomma terminerei qui questa giornata di oggi ci diamo appuntamento poi per se non sbaglio il 22 ottobre per un altro webinar in questo caso sui dati territoriali poi è previsto appunto un altro ancora di chiusura di questo ciclo il 5 novembre dove si parlerà ancora di dati aperti e di quanti dati in generale alla luce di quanto voleste dal piano triennale ma avremo anche possibilità di spaziare su altre tematiche affini naturalmente non mi resta che ringraziarvi della partecipazione dandovi appuntamento al prossimo webinar vedo che comunque ci stanno diverse cose che mi piacerebbe intrattenermi a dialogare ma penso che ne avremo poi l'opportunità anche direttamente con le persone interessate quindi insomma contattateci attraverso i normali canali istituzionali e saremo ben lieti di dare ulteriori riscontri ultimissima cosa ultimissima nota vogliamo appunto questo non è il nuovo daticovit questo che la sua nuova riso non è un punto di arrivo ma è un punto uno step ulteriore del percorso iniziato qualche anno fa e da questo di oggi stiamo partendo per andare a migliorare la qualità delle informazioni evidentemente è necessario fare ulteriori sforzi su questo aspetto evidentemente ci sono delle cose come ci ha fatto vedere ieri o anzi ci sono delle cose che a livello di SICAN non sono diciamo pienamente compatibili pienamente in linea con le esigenze di qualità delle informazioni ci sono delle cose che vanno chiarite un po' meglio abbiamo in programma una serie di attività ma soprattutto vogliamo raccogliere un po' e questo lo diceva Francesca Grena nel suo intervento vogliamo raccogliere ragionare insieme alle altre amministrazioni per fare diciamo delle ulteriori attività volte a migliorare un po' una serie di aspetti a partire appunto dalla qualità della metodazione ma non solo grazie grazie volevo chiudere soltanto ricordando che le domande appunto a cui non siamo riusciti a rispondere le raccoglieremo e troveremo appunto una modalità per rispondervi e vi ricordo che al termine del webinar riceverete una mail con un link per la compilazione del questionario di valutazione cosa molto importante per noi in maniera tale da migliorare continuamente la composizione nella realizzazione dei webinar quindi grazie a tutti grazie ai relatori grazie a voi partecipanti e speriamo di avere numerose altre occasioni di confronto su queste tematiche grazie buona giornata a tutti